Si mantiene costantemente basso il numero dei nuovi positivi al Covid-19 nella nostra regione. Nel bollettino odierno diramato dall'assessorato alla salute sono 38 i nuovi casi con età compresa tra i 7 e gli 84 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 5, di cui 4 residenti in provincia di Chieti e uno in quella di Pescara. I nuovi casi sono il risultato della somma di 4.807 tamponi molecolari ed antigenici eseguiti con un tasso di positività pari allo 0,8%. Il bilancio dei pazienti deceduti fa registrare un nuovo caso, si tratta di un 87enne della provincia di Chieti. Così, dall'inizio dell'emergenza, il numero totale dei decessi raggiunge quota 2.499. Il numero dei ricoverati in terapia non intensiva rimane invariato a 81 pazienti. 4 con nessun nuovo ingresso, il numero invece dei ricoverati in terapia intensiva. 1.567 sono in isolamento domiciliare. Anche per oggi numero elevato per quanto riguarda i dimessi guariti, più 489 rispetto a ieri, che comprende casi non precedentemente comunicati dalle ASL e relativi al periodo novembre 2020-maggio 2021. Gli attualmente positivi in Abruzzo dunque sono 1.652. Nel totale dei casi positivi, 18.842 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 11 rispetto a ieri. 19.354 in provincia di Chieti, che fa registrare un incremento di 17 casi. 18.158 in provincia di Pescara, più 23 rispetto a ieri. 17.315 invece in provincia di Teramo, più 1 rispetto a ieri. 592 si trovano fuori regione, meno 2 rispetto a ieri e 138, meno 13 rispetto a ieri, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.